Eccoci qua, eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, finalmente sono tornato, piccola pausa estiva, ma adesso torneremo a bomba, c'è un sacco di robe da parlarvi, da farvi vedere, roba che ho letto, serie molto interessanti che voglio approfondire con voi. Ok, io ho letture per quanto riguarda agosto, c'è qualcosa pure che forse era rimasto indietro, quindi forse è qualcosa che ho comprato a luglio ma che ho letto agosto, adesso non mi ricordo, sì forse sono speciale da X Wheeler, adesso non mi sembra, però non mi ricordo, comunque andiamo avanti come sempre, adesso qui non è tanto sistemato, però è un po' a caso. Vi ricordo sempre di proteggere i vostri albi brunelli con le buste protettive, io uso MC buste protettive, in descrizione potete trovare insomma il codice sconto IAI85 per avere il 10% di sconto sul totale dei vostri acquisti, sono buste protettive veramente ottime, 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 per tutti i formati, la qualità è veramente strepitosa. Andiamo, andiamo, andiamo con Dragonero Mondoscuro, BIS, questo è il 21 BIS, qui abbiamo Mondo Senza Sole, bellissima copertina, Pagliarani come sempre, qui abbiamo praticamente, vabbè abbiamo tre disegnatori, Gammardella, Medri, Moroni, soggetto Scenziatura, Enoch, poi sempre copertina Pagliarani Francescutto, carino, carino, mi ha lasciato molto hype per sapere come va a finire alcune dinamiche, mi piace questa continuity dentro la continuity, una continuity molto molto avanti rispetto alla regolare normale, come se fossero due serie parallele che vanno avanti, è molto molto figa, purtroppo dobbiamo aspettare il prossimo anno, per sapere, o uno speciale, non so, ma credo il prossimo anno oramai andrà avanti con i BIS, per sapere come andrà a finire, disegni carini, però alcuni piaciuti di più, alcuni tipo questi qui un po' di meno, con un tratto un po' grossolano, però come sempre ragazzi, il drago nero è sempre una certezza, e poi qui ci sono proprio i draghi, quindi insomma, tanta tanta roba. Poi, speciale Dex Wheeler, qua abbiamo Stella d'Argento, qui si parla di Kit Carson, ragazzi, qua abbiamo Giuse Fredia Scenziatura e soggetto, disegni Pasquale del Vecchio, Opertina, Dotti, come sempre, grandissimo Dotti, mi è piaciuto, mi è piaciuto, però devo essere sincero, sia i disegni che la storia mi è piaciuta, è molto snella, perché appunto essendo scritta da Giuse Fredi e non da Poselli, come spesso accade, però ho sentito dire capolavoro, capolavoro assoluto, secondo me non mi è piaciuta anche molto questa parte, questa grafica qui, carino, l'ho letto con molto molto piacere, però sinceramente, adesso capolavoro, no, non lo direi io, per me, ecco, magari per chi è appassionato del personaggio di Kit Carson, magari c'ha quel plus più che può piacere ancora di più. Poi, Nathan Never, Dr. Robot, eccolo qua, questo è di Medda, e anche se non lo leggo, lo so, Silvia Corbetta, ha i disegni, bravissima, bravissima, veramente, veramente brava, e c'è quel disegno che apre una testa, che è veramente fuori di testa, adesso se lo trovo lo faccio vedere qua, ragazzi, che tavola, spettacolare, spettacolare, copertina sempre del buon giardone, e che dire, che dire, è molto molto clickbait, perché io pensavo che era un albo molto sulla robotica, invece la robotica la tocca veramente di striscio, c'è la solita multinazionale farmaceutica, c'è, che poi è veramente, è veramente azzeccato dire la solita, perché è quella che abbiamo già visto in Mr. Perfect e in Protocollo Noir, quindi, che se non sbaglio, tutte e due, tutte e due disegnate da donne, non so se erano tutti disegnati dalla corbetta, ma comunque da donne, su questo ho sicuro. Mr. Perfect era quello dei gigolo robot, e il Protocollo Noir era quello dell'Alzheimer, degli studi sull'Alzheimer. Diciamo, la storia, io c'ho molto hype, appunto, perché mi piacciono tantissimo le storie quelle sulla robotica, Link è uno dei miei personaggi preferiti, amo le storie sulla, quando come protagonisti, come soggetto, ma qui veramente toccata, super super marginale, se poi c'è un po' di morale verso la fine, ma niente di che. Ok, invece, invece devo dire che, carino questo mondo, il mondo di Nathan Ever, dove adesso qui spiega l'agenzia Alfa e tutta la ristrutturazione che è stata fatta, non so se questa è una rubrica che è stata introdotta solo per spiegare due o tre cose che sono state, insomma, rinnovare il palazzo, altre due o tre cose, o sarà una rubrica fissa, non lo so, non mi ricordo, non so anche se l'ha detto Vigna, non abbiamo parlato lì da Agenzia Alfa, anzi, se non l'avete vista, andate per recuperare la chiacchierata che abbiamo fatto sul canale di Agenzia Alfa, con Bebi Vigna, io, Alex da Agenzia Alfa e fumettofilo, se non sbaglio. Allora, dicevo, due cose da menzionare, a parte appunto questo mondo di Nathan Ever e poi questa qui, questa è la nuova Agenzia Alfa, che può sembrare in linea coi tempi, perché è tutta fricchettona, vegana, vegetariana, fa le tisane, però comunque mena come un fabbro, particolare, insomma, il carattere design non è male e è soprattutto, insomma, in linea coi tempi, queste scene qui, così, anche nera la diabolica, mi sono piaciute molto. Però, però, per quanto possa sembrare così puritana e tutto quanto, anche l'Eso è scheda nell'armadio, che un po' verso la fine qualcosina viene accennato e quindi sarà interessante scoprirne qualcosa di più, ecco. Poi vi menziono che c'è, per le grandi storie bonelli, finalmente hanno anche messo dentro un albo di Nathan Ever e qui abbiamo praticamente, in un unico maxialbo, la saga che ha sconvolto il mondo di Nathan Ever e sarà la saga di Omega, molto probabilmente, Omega, criminale robot, ha un piano diabolico, o due, per distruggere il mondo, o due mondi, riusciranno gli agenti alfa a fermarlo, o il sole esploderà, l'apocalisse incombe sulla lotta finale di Nathan Ever contro le orde invincibili dei robot di Omega, angelo cibernetico della morte, in un'epica avventura che ha per limite soltanto il multiverso infinito, ciao. Solo sta spiegazione, non so chi l'ha scritta, ma mamma mia, dovrebbe voglia di rileggermi nella saga. E quindi, non so dentro cosa c'è, è preciso, c'è anche Addio Me, tutti quegli albi lì bellissimi, non so adesso quante pagine, ma saranno almeno 10 albi dentro, no, 10 albi sono, no, sono 900 pagine, no, un po' forse 8, però, per la saga di Omega, 8 albi, sono un po' pochi secondo me, però, vabbè, gente più esperta di me l'ha messo insieme, quindi vedremo, io non lo prendo, però vedremo. Tex Wheeler, agente speciale, eccolo qua, finisce, finisce, per fortuna, perché non mi era proprio piaciuta, questa saga qua, soggetto Gioligi Bonelli e Mauro Boselli, scelgiatura Bose, disegni Brindisi, i disegni non mi hanno fatto impazzire, questo rispetto agli altri è abbastanza verbosetto, sono contento che è finito, storia che è iniziata e non mi è piaciuta e che è finita e che non mi è piaciuta. L'unica cosa che invece mi è piaciuta moltissimo, questo ne devo dare atto, non so se è stata opera di Gianluigi o Bonelli o di Boselli, ma adesso vorrei fare spoiler, questo è uno spoiler, quindi per chiunque non l'ha letto e non vuole spoiler, schippate, andate avanti, eccetera, sono contento che la damigela di turno, che in questa casa è la fiera del diablo, florenzita, muore, e non come sempre che Tex riesce a salvarlo, che si sale, invece no, qua Tex non riesce a salvarla, arriva troppo tardi, lei muore anche insomma in un modo abbastanza brutto, con dei personaggi alla fine veramente brutti e mi è piaciuto molto perché mi ha riportato al western, quello un po' francese, al western quello crudo, dove non sempre l'eroe vince, dove non sempre la fanciulla di turno viene salvata all'eroe, ma a volte succedono anche queste cose, quindi bello, bello, bello per finale, anche se la saga a me non mi è piaciuto, il prossimo sarà la regina del fiume, vediamo com'è, spero un disegnatore meritevole e vediamo se sapranno sfonare una saga che mi prende, tanto che non c'è una saga figa, tipo quella dei seminoles, che mi ha veramente preso di brutto, sembra un po' che stanno finendo la benzina su questo Tex Wheeler, sono partiti bene, ma poi oltre la voragine di Ergil, Dragonero Mondoscuro numero 22, eccolo qua, questo che avevo visto delle tavole, avevo visto delle robe, mi sembrava un albo steampunk fantasy della Madonna, invece poi non è tanto così tanto steampunk, così qua abbiamo di nuovo Luca Enoch e disegni Diego Bonesso, Robertino, beh sempre Poirani e Francescutto, ma qui Diego Bonesso secondo me fa un lavorone, un lavorone, anche se spesso cambia un po' stile, quasi che non sembrerebbe neanche la stessa persona, però mi è piaciuto molto, è piaciuto molto, sia l'albo, anche se me l'ho aspettato più steampunk, però qua a volte Bonesso mi è sembrata a me l'unica cosa che posso fare appunto, che fa Nata un po' vecchio, un po' vecchio decrepito, a volte gli fa delle facce, sto nasone, un po' decrepito, per il resto è spettacolare, spettacolare soprattutto, mi piace molto come fa i sfondi, guardate qua, bello, campamenti, tutto molto figo, la storia, ragazzi, la storia che dirvi, abbiamo ancora una volta un sacco di passi avanti per quanto riguarda il mondo degli abomini, si scoprono un sacco di cose, sempre più aura, quindi i feticci vengono messi un po' in centro delle storie, guardate qua, adesso il feticcio combatte a livelli mai visti, stanno succedendo un sacco di cose per cui Ian non è proprio al centro, non è proprio in bolla delle situazioni, a volte succedono delle cose, vengono successe fatte succedere, le cose intorno a lui, che lui è all'oscuro, lo scopre dopo, non è più così padrone delle situazioni come era un tempo, come era a Ribelle, come era ancora prima nella serie regolare, adesso ci sono un sacco di personaggi che agiscono veramente nell'ombra e per loro torna conto che può essere più buono, meno buono, però insomma abbastanza anche tornaconti personali, vedremo come andrà insomma col feticcio perché è bello incazzato, è bello incazzato, rivuole un corpo, rivuole un corpo, quindi staremo a vedere, questa è praticamente un corpo molto, c'è molte battaglie, molto combattuto, però la cosa più figa è sicuramente un'altra apparizione di alfieri, di alfieri, di abomini che va sempre, sempre, mettono sempre pezzi del pazzo, in questo, e poi in questo, non so se se vedete, ma proprio in questo albo è, lei, un alfiere, un comandante, di alto rango, sembra, sembra Selena, dei tecnodroidi, per chi legge anche Nathan Ever, però non smentisce mai, il prossimo sarà il divoratore, il 10 settembre, Dagonero deve ritornare a Ratun Kun, dove la sua amata Abriana è morta, il dolore però non è minaccioso, quanto il demone che si nasconde nell'abisso, ok, ok, poi, questo non l'ho letto, è il text wheeler extra, è il 2 di 3, aspetto di avere tutti e 3, poi li leggerò, qua abbiamo il buon Boselli, e poi il corato Mastrantuolo, che ragazzi è una super garanzia, per quanto mi riguarda, anche la copertina di carnevale, bellissima, bellissima, questione, questi non li ho tutti, gli extra, però quando c'è qualcosa di interessante, come storia, o di disegnatore fuori scala, li prendo volentieri, altra cosa che ho preso, e ancora non l'ho letto, è sotto sopra il 2, aspetto di avere tutti e 3, e poi li leggerò, e niente, so curioso, so che non è capolavoro del secolo, so che è una storia abbastanza così, mi piace molto i disegni di grossa, comunque Enoch, anche quando fa opere, insomma, un po' così minori, scrive sempre bene, e sono contento di averlo preso in questo formato, penultimo numero, poi, 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 abbiamo, senza anima, brama, eccolo qui, l'ultimo uscito, di Pagliarani, disegnato, scritto da Stefano Vietti, e poi la copertina sempre di Malalberti, e colorato dentro da Francescutto, allora ragazzi, io vedevo di Pagliarani cosa fa qui, qui fa un capolavoro, veramente un capolavoro del secolo, dei disegni, mamma mia, bellissimi, veramente, veramente belli, dei dettagli, dei particolari, delle armature, stupendi, e Francescutto, vado qua, aspettate, tutti sti cavalieri, tutte sti armature fino in fondo, bellissimi dettagli, Francescutto colora, anche lui, da Dio, mi piace moltissimo la scelta di questi colori, molto molto chiari, per quanto riguarda queste città, appunto, dei paesi del sud, dove la nostra compagnia viene mandata, e poi mi piace anche, guardate qui che bello, questa colorazione, per quanto riguarda questa tempesta nella notte, bello, 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 insomma, viene mandata, appunto, la nostra compagnia dei Senz'Anima, assoddata da tipo un sultano dei regni del sud, che questa sembra Babilonia, per punire un vassalo del sultano che si è un po' ribellato, ha un po' assato la testa, e poi vedrete, se lo leggete, come andrà a finire. Stupendo, poi, il, poi vabbè, ci sono i personaggi che sono entrati, se non sbaglio, uno o due albi fa, personaggi nuovi, come Nano, come le due gemelle, e altri due o tre, che sono entrati, appunto, diciamo, più principali, e sono entrati a far parte della compagnia, dopo che è stata un po' decimata, tra le varie battaglie, l'agguato che è stato fatto nel deserto, e tutto quanto, hanno rinforzato i ranghi, e quindi sono un po' diventati un po' protagonista, anche perché qualche personaggio che all'inizio era Cardine, è stato, è morto, a metà, a metà serie, e quindi abbiamo questi tre o quattro personaggi che si sono introdotti, che sono praticamente i nuovi, i nuovi, insomma, protagonisti in secondo piano, ecco. Bellissima, bellissima, e sia come è stata raccontata, come sceneggiatura, e sia come disegni la... un po' il passato de... adesso non mi ricordo come si chiama, comunque, di lei, di lei, sembra che si chiama Madi, stupendo, guardate qua, che roba, che colori, che luce, che... senza anima, ragazzi, è spettacolare. Poi, qui abbiamo tutta una, come vedete, un'ambientazione un po', sembra quasi da conquistadoras spagnoli, e infatti dopo, più avanti, si vedrà proprio che è veramente quasi una... sono nella giungla, guardate, insomma, molto molto interessante, e... e poi, non voglio far spoiler, ecco qua, però, mi sembra... qua siamo proprio a parlare, mi sembra proprio qua, con questo dovesse spagnolo a tutti gli effetti, guardate. E poi ci sarà un colpo di scena, che non vi spoilerò, ma... che hanno... hanno deciso di fare, insomma. Hanno deciso che... un personaggio è raggiunta la sua ora, non dico di più. Comunque, bellissimo album. Bellissimo album, anche se... non ho capito bene la storia, perché in teoria, qui, appunto, devo andare a punire sto vassallo, eh... però si trovano, non in un villaggio, ma in una giungla, poi in un tempio abbandonato... non ho capito bene un paio di passaggi, che... bah... sono un po'... un po' poco chiari, ecco. Ultima lettura, ma non di importanza, è... eh... text della serie regolare, il 458, sulla pista, eh... di Fortapache, 459 e 460. Eh... storia in tre albi, appunto, chiamola così, la storia sulla pista di Fortapache, eh... disegnata da un Ortix in grandissima forma, e devo dire, scritta da un altrettanto Boselli in grandissima forma, copertino, come sempre, e buon villa. Allora, qui... storia che ricorda veramente i film, quelli vecchi in bianco e nero, di Ford, John Wayne, eccetera, eccetera, ehm... dove, secondo me, Boselli omaggia molto, omaggia molto, eh... quello che è, eh... quel cinema lì, con una trama che è veramente molto, molto simile, perché, eh... abbiamo, appunto, Tex che si trova a salvare, un convoglio, che stava andando, appunto, a Fortapache, perché una signora deve incontrare il, eh... il promesso sposo, fidanzato, che è un tenente, eh... Fortapache. Solamente che ci sono dei, eh... indiani che sono scappati dalla riserva, perché, eh... sono stati messi, insomma, in condizioni pietose da questo tenente, eh... cretino, e, ehm... e quindi si rivoltano, e quindi fanno scoribbande, sia su Fortapache, ma in generale, quindi Tex, poi, insieme a una guida, eh... insieme a... eh... a Tiger Jack, eh... si uniscono, appunto, per cercare di catturare, uno, tutte e due capi indiani pericolosi, e il resto degli indiani, insomma, eh... farli rientrare, eh... nella riserva. Perché mi è piaciuto? A parte i disegni, perché, eh... i personaggi, come spesso accade, anche i secondari, i terziari, così, sono tutti caratterizzati benissimo, anche come era successo nei seminoles. La guida è, eh... fighissimo, fighissimo, ma c'è il sergente, che è lui, che è lui, che adesso qua, magari non rende, se trovi un'altra pagina, che è lui, che è praticamente uguale, anche come fisionomia, a quel sergente, che c'era spesso nei film, appunto, vecchi di Joe Wayne, quel sergentone grande, eh... severo, scorbutico, ma nello stesso tempo buono, e quindi, insomma, me l'ha ricordato moltissimo. Non so se si è ispirato, eh... Boselli o Ortiz, per la scrittura, ma... credo che sì, insomma, perché è veramente... se gente qui che è, perché è veramente... eh... veramente uguale. Dopo si trova un... Poi c'è questo capitano, che è bellissimo, non è... all'inizio, all'inizio e alla fine, ma è... è... veramente... è veramente... ecco, veramente... caratterizzato da Dio, questo è il sergente Weekend, guardate, adesso magari poi se trovo una foto, magari ve la metto qua a fianco, eh... anche la... la signorina, poi c'è il tonnello, l'altro tenente, quello coraggioso, molto d'onore, guardate qua, tutti, tutti i personaggi, veramente, sembrano presi, sembra che Ortiz o Boselli, veramente, si siano visti sti film, e poi abbiano scritto sta storia, che poi magari... adesso non mi ricordo, l'editoriale qua non c'è, non mi sembra che racconti, appunto, che è stato preso spunto dal film, comunque, dicevo, eh... veramente sembra di stare a guardare un film, scorre da Dio, eh... bellissima, non è che ci siano tutti sti gran colpi di scena, a livello... sì, un paio sì, a livello che... che... così dice che... che la suspense o quel thriller è alto, però, ehm... voi vede come va finì, sei contento di leggerla, eh... è veramente una storia, molto molto figa, anche gli indiani sono caratterizzati bene, i capi, i disegni di Ortiz, sono bellissimi, e... l'unica cosa, se vogliamo trovare un difetto, che... che a me, sinceramente, Tex non mi piace quando è vestito da navaglio, qui Tex, tutti e tre gli api, tutta la storia, c'ha... c'ha vestito navaglio, e... sia lui che Tiger Jack, chiaramente, e... a me non mi piace quando Tex, infatti vedete qua, a me non mi piace quando Tex, c'ha vestito navaglio, prefisco quando è vestito da... da cowboy, ehm... credo, credo che ne farò un video a parte, perché voglio veramente, eh... che più gente possibile, leggere sta storia, perché, ehm... è veramente figa, merita, sull'usato, se recupera, credo, molto facilmente, io, eh... l'ho presa, se non sbaglio, a Lucca, l'anno scorso, ehm... uno di quei, ehm... fumettari, quelli che sono in piazza, che sono sempre lì, 4,58, 4,59, 4,60, veramente, veramente bella, ma ne parleremo, ne parleremo, poi, per quanto riguarda, per quanto riguarda, le uscite, andiamo a vedere, le uscite che ci saranno a settembre, ehm... le uscite di settembre, andiamo un po', allora, eh, fumetti, allora, Albo, prossimamente, a settembre abbiamo, Test Wheeler Extra, numero 3, ok, che finisce, all'ombra, eh, il capestro, poi, mh, abbiamo detto, appunto, Canestro e Boreri, Nathan Never, poi abbiamo, un po' di roba, che non seguo, Giulia, non ve ne parlo, Drago Nero, abbiamo detto, il divoratore, vediamo di chi è, Vietti e Porcaro, ok, belle, belle tavole, anche Porcaro, molto, molto particolare, molto thrilleroso, il suo tratto, niente da menzionare, per quanto riguarda, le storie, poi, Nathan Never, 400, padroni dei sogni, quindi, 400 sarà a colori, me da Michele, e Rau Rosario, ah, per fortuna, Rau, ah, guardate qua che tavole, bellissimo, Rau, a me, mi piace tantissimo, e so contento, che lui faccia, 400, che ha colori, sono molto, molto contento, poi, appunto, ne metto il 3, di sotto sopra, e poi, questo che è, Tex, ah, Tex alla francese, oh, Tex Dinamite, quindi, se parlerate il cavallo di Tex, bello, bello, un albo di cavalli, bello, scritto da Boselli, ma, eh, non dovrebbe essere molto verboso, perché trattandosi di cavalli, eh, riesce ad essere verboso pure con i cavalli, eh, è disegnato da Dotti, che però, mh, più che un Tex alla francese, eh, sembra un, 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 un color Tex, o un, un Tex di quelli vecchi, ricolorati, ahimè, ahimè, questo Tex alla francese, eh, sta a fare un po', parecchio passo indietro, anche questo, eh, lo prenderò, perché, eh, perché su Dinamite, il cavallo di Tex, vedo che le tavole dei cavalli, sono molto belle, rispetto a quelle, quelle persone, che so, non bellissime, però, che lo deprendero, però, peccato, peccato, che la qualità sta scendendo del brutto, questo era per quanto riguarda i bonelli, diciamo, i bonelli da edicola, la roba edicola, quanto riguarda i cartonali da fumetteria, abbiamo, eh, Gher numero tre, Tex, alcune ristampe di Tex, la congiura, grandi, di Zivilla, Storia del West, questo che è, non so se è quello, vediamo, nuova edizione, oh my god, non mi dì che, adesso fanno tutte, rifaranno tutta Storia del West, in cartonato, madonna, vabbè, poi Dragonair e Conan, in cartonato, nelle due versioni, quella di Dragonair, e quella di Conan, che poi, sì, non so se erano due versioni, una perché era, no, questa era la variant, sì, c'è nella variante di, di coso, oddio di, porca miseria, Barbieri Paolo, non so se qui c'è tutto, solo, mi sembra sì, perché c'è, è tutta la storia, contiene, no, non è tutta la storia, perché è 160 pagine, non so se contiene tutta la serie, un cartonato, perché se no, potrei recuperarlo, più avanti, per avere un cartonato, vediamo, vediamo, devo guardare, poi nero, il numero 7, anche nero, lo sto lasciando un po' in stand by, perché sinceramente, ho letto i primi sei, quindi la prima stagione, ma, pensavo che era, molto più, storico, crociate, e invece, si è rivelato, molto, molto esoterico, e, per quanto riguarda, che è scritto bene, il disegnale colorato da Dio, ma, aspetterò, ecco, aspetterò, poi c'è, Stitcher Dex, Dylan Dog, Dylan Dog, Pianeto dei Morti, il cartonato, un altro cartonato Dylan Dog, e poi c'è, lo sconosciuto, il numero 3, le nuove avventure, questo non sarebbe male, da recuperare, perché, a me il sconosciuto, comunque, mi piace, come genere, anche qua, i disegni, minchia, che belli, veramente, veramente fighe, il personaggio dello sconosciuto, bello, ma, chissà, magari, mi viene di recuperarsi, questi qua, i cartonati dello sconosciuto, dovete vedere se li trovo, questo è quello nuovo, chiaramente, non è quello di Magnus, però, è fatto quasi uguale, ragazzi, qui, è tutto quello, che, che esce a settembre, tutto quello che ho letto, come sempre, grazie a tutti, a proposito, grazie a tutti, abbiamo superato i 1500 iscritti, avevo detto, che facevo un nuovo video collezione, qualche cosa ho già fatto, qualche video, ho già girato, le librerie sparse, purtroppo, devo girare ancora, tutta la roba che ho, nelle scatole, e in cantina, quindi, piano piano, a spezzoni, lo sto girando, credo che comunque, prima della fine dell'anno, arriverà, scusate, se arriverà un po' a ritardo, cioè, non così celere, ma arriverà, ok, continuate a iscrivervi, a mettere un like, se i video vi piacciono, commentate, commentate, vi raccomando, e, ciao a tutti, e appuntamento al prossimo video,